Cioè, senza fare la melodia... Si, andare sull'armonia e fare... Magari sulla parte maggiore. Siamo tanto forti, eh? Sempre minore. Si, diciamo che fa vibrare un po' la pedana. Quindi se è un po' più alto, meglio, perché mi vibra la pedana. Quando vibra la pedana crea... Ma c'è Giampino. Allora, vediamo se la stiamo suonando. No, li sto finendo io. Voi avete suonato prima? E' sempre lo stesso. Salivo in tono. Tu, senza... Qui, come si era detto? Vi facciamo una coda. Allora, io la chiuderei. Non farei la coda. Finisci tu. Mi, come si... Tu, senza! Tu. Tu, senza! Sì. T- 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 L'agrazione.